Sono 25 anni che ho lasciato Verona e la mia amata Valpolicella, con la mia casa, famiglia, amici, lavoro e tutto quello che c'era allora nella mia vita. Ho passato tanti momenti difficili in questo frangente e tanti bellissimi. Devo dire che non ho mai rimpianto la scelta fatta. In questa occasione vorrei parlare in particolare di alcuni aspetti che ho vissuto e che credo anche altri missionari vivano. Io sono un focolarino, quindi un laico consacrato, ma penso che quello che scrivo possa essere simile anche per quelle persone che per Dio lasciano la loro terra. Oggigiorno si parla spesso di inculturazione, parole inizialmente legate all'arrivo del Vangelo in nuove terre, ma che forse ora si usa anche per chi si sposta in un altro paese e si deve adattare ad una nuova cultura. Ma vorrei dire qualcosa non tanto riguardo gli sforzi di una persona di entrare in un'altra cultura, ma di cosa si vive interiormente quando si fa questo passo. Io ho vissuto venti anni in India ed ora da circa due anni sono nelle Filippine. Come tutti i cambiamenti e le avventure, se vogliamo chiamarle così, all'inizio c'è un periodo di entusiasmo mescolato un po' alla paura del nuovo. Sarò capace di stare in un luogo così diverso? Riuscirò ad adattarmi, ad imparare la lingua? Un paese tropicale andrà bene per me? Se sto male, cosa succede? Se fallisco e non riesco a stare, saprò rialzarmi? Normalmente non mi pongo tante domande, ma anche se forse non me le sono mai chieste, così in modo chiaro, in qualche modo queste domande mescolate ad altri pensieri prima o poi mi sono passate per la mente. Ci sono voluti tre mesi prima di avere il coraggio di guidare la macchina a Mumbai. Sei mesi per imparare un po' d'inglese, che non è comunque la lingua che tutti parlano. Un anno o forse più, perché il mio apparato digerente si abituasse al cibo e soprattutto all'acqua. Dopo la prima stagione calda, già credevo che non sarei resistito. I vestiti che si attaccano addosso dal sudore e poi improvvisamente l'aria condizionata a 17 gradi mi creavano continui raffreddori fortissimi. Il dover camminare nell'acqua alta quando ci sono i monsoni, il ritrovarsi la muffa nei vestiti nell'armadio, il non riuscire a stare in una stanza senza il ventilatore acceso. Queste alcune delle tante piccole sfide iniziali, giusto per dare un esempio. Ma poi, col passare del tempo, quando ci si è abituati, si entra un po' nella cultura, nella mentalità, si inizia a sentirsi a casa. Allora nella mente ci sono due case, quella di origine e quella nuova. Ed era qui che volevo arrivare. A questo punto, cosa succede? Quando si è in mondi così diversi, come quello asiatico, alla fine, nonostante tutto, ci si sente sempre un po' stranieri. Anche se oramai la tua vita è lì, uno deve accettare questo fatto. Un po' perché ci sono tante lingue che è impossibile per chiunque impararne varie. Ma le persone locali spesso pensano che tu certe cose non le puoi capire e quindi probabilmente per rispetto non te le spiegano nemmeno. Quindi tu fai quello che puoi per riuscire a capire qualcosa. Non solo, ma anche la tua terra natale diventa un po' straniera. Nel giro di tanti anni è cambiata. La tua famiglia è diversa. I giovani sono cresciuti. Gli adulti sono diventati anziani. E tu non hai avuto la possibilità di condividere, se non in parte, le loro sfide, i loro successi, i loro fallimenti, la crescita dei figli. Quindi ti ritrovi con persone diverse e anche tu sei diverso. Di conseguenza il tuo rapporto con i tuoi familiari a volte fa riferimento al passato, a cose oramai totalmente superate e finite, ma le uniche che tu forse conosci. Quindi deve anche lì lavorare per trovare rapporti nuovi e in sintonia con le nuove realtà. Ma cosa c'è di importante in questo processo? Ti rendi conto che Dio veramente ti aiuta a spostare le radici che hai messo in questa terra, nelle cose, nelle persone, verso di Lui. Nonostante la tua piccolezza, vedi che le tue radici in qualche modo sono adesso più in Dio. Inoltre può succedere, come è avvenuto a me due anni fa, che dopo venti anni Dio ti chiede di lasciare quello che hai costruito, quel posto dove ti trovi oramai a tuo agio ed iniziare in un altro. Ma questa volta è un iniziare diverso perché sai e hai sperimentato che è Dio che guida la tua vita e che Lui ti mette lì perché sa che è ancora una volta il posto giusto per te. Allora non perdi tempo, ti metti subito a disposizione, anche se sai che sarai anche lì sempre un po' straniero, nonostante gli sforzi che potrai fare, ma uno straniero che ora ha qualche piccola radice in Dio. E Dio sa dosare tutto e sa far fiorire anche il deserto, quindi sei tranquillo perché hai imparato un pochino a far fare a Lui. E Dio non si lascia mai vincere in generosità e tutto quello che hai vissuto diventa un dono per te e per gli altri. Vedi i tasselli di un mosaico bellissimo che si compone anche con il tuo piccolo apporto e la gioia e soprattutto la pace interiore non mancano mai e danno sempre più senso alla tua scelta fatta.